andrea arcangeli ciao grazie per essere qui con hot corn grazie a voi come sempre allora di nuovo qui al figari tu qui sei anche in ruolo da giurato ho visto che ci sono state le discussioni accese negli ultimi giorni per deliberare sui corti vincitori quindi raccontaci un po io sono solo qui invece di giurato per cui si ho cercato di prenderla più seriamente possibile la prima volta che era in giuria per cui non è facile anche perché sai che dall'altra parte ci sono una serie di registi e attori produttori che hanno investito tempo e soldi per portare a casa un prodotto fatto al meglio delle possibilità per cui in qualche modo lo devi a loro il rispetto per cui questo rispetto poi tra giurati ci ha portato a un po a litigare a scannarci ma per cercare di tirare fuori veramente il meglio e il meglio era già lì tra i corti vabbè sono state discussioni per il bene del cinema comunque esatto era più che giusto senti comunque torni in sardegna perché ci hai girato un film il mutuo di gallura che ci puoi raccontare di queste esperienze del tuo rapporto quindi con la sardegna insomma il mutuo di gallura è stato un bel bel progetto complesso sono stati quasi due mesi qui tra riprese prove ed era un periodo strano perché in italia era in piena zona rossa per cui io la sardegna l'ho vista e non l'ho vista ce la vedevo anche un po da fuori per fortuna quando giravamo improvvisamente mi sembrava essere un altro mondo e ho sempre un po un debole per la sardegna l'anno dopo il mutuo di gallura sono tornato qui da solo a fare un giro in moto per tutta la sardegna in solitaria per cui l'occasione di venire qui al figari che per me è il primo figari era totalmente totalmente ghiotta io so che comunque oltre all'attore ti ti diletti anche come dj ma no è una passione collaterale che ho perché mi piace molto ballare e fare festa per cui fare il dj mi piace molto la musica per cui a quel punto è diventato un po una cosa naturale perché mi piace ballare con la musica che dico io fondamentalmente questo è il motivo e chi sono i tuoi amori musicali allora in generale beh diciamo che quelli che mi hanno avvicinato alla musica elettronica sono sicuramente chemical brothers da funk nicolas jar trent moller sono sicuramente hanno dato un po un cambio brianino è stato proprio un momento in cui ho scoperto una musica che per me mi ha ma che mi ha totalmente aperto e prima insomma da batteri da ex batterista tutta una tradizione più rock che inevitabilmente da liceo artistico ce l'hai inevitabilmente però sì loro adesso sono i miei fari ma infatti appunto cioè tu mi sembri comunque una persona che passa veramente da una cosa all'altra che sembrano lontanissimi tra di loro e lo fai anche con i voli perché dal proto latino di romulus poi si è andato a calciare il pallone nei panni di roberto baggio come si fa questo passaggio come come te li scegli questi personaggi ma è stato sono fortunato fondamentalmente perché è stato fatto una gavetta tale negli ultimi anni che mi ha portato da potermi permettere di scegliere delle cose che mi piace fare e che non è per niente scontato che è un attore della mia età insomma possa possa fare nel cinema italiano non essendo una star che riceve copioni ogni due ore per cui è diventato un po in maniera naturale non è una cosa che ho scelto tutto adesso io voglio fare solo cose diverse tra di loro però mi sono accorto che avevo l'opportunità di farlo e forse avevo anche bisogno di farlo ogni volta era come buttarsi una cosa nuova scoprirsi sperimentarsi ed è il mio modo forse di sopravvivere riscoprirmi continuamente intanto è un bel modo di sopravvivere che comunque hai lavorato anche con Danny Boyle in Trust quindi insomma hai detto niente e senti a proposito di questi grandi nomi c'è qualcuno a cui ti ispiri un mito a cui guardi nel cinema ma anche nella musica se vuoi io sono un po difficile perché non ho veramente dei miti ho dei punti di riferimento come 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 tanti in tanti ambienti diversi ma non è facilissimo perché io non sono realmente cresciuto avendo dei miti specifici da grande voglio essere quello però ho avuto tanti punti di riferimento che mi hanno un po insegnato come attore sicuramente forse Sean Penn è uno che mi ha sempre mi ha sempre incuriosito prima ancora di immaginare di fare l'attore o il cinema di Fincher il cinema di Antonioni sono sempre un cinema che mi ha sempre detto qualcosa fin da piccolo e forse inconsciamente ho sempre provato a far anch'io qualcosa che mi potesse rendere fiero e nella musica uguale però devo dire che i concerti di Chemical Brothers sono quelli che mi hanno veramente un po segnato sono una bella esperienza va bene grazie Andrea per il tuo tempo grazie a voi ragazzi